Mio padre era, prima di sposare mia madre, era con una famiglia, la famiglia di contadini di mia madre, che allora li chiamavano i servitori. Dei soci di Montecavolo ha messo su una ditta, come posso dire, avevano le macchine da trebbiare, da arare, c'erano 4-5 soci e ha messo su quella cosa lì e dopo lui ha sempre fatto quel lavoro lì. I trebbiatori, insomma, andavano a arare, a trebbiare, a fare quelle cose. Io a 10 anni ho cominciato a fare la sarta, cioè a imparare a fare la sarta. Aiutavo un po', aiutavo mia madre perché dopo avevamo 6-7 bioncchi di terra, tenevamo una mucca o due per poter avere il latte, per poter andare al caseificio a prendere il formaggio, il burro, eccetera. Poi si prendeva, insomma, qualcosa. Mio padre poi d'inverno, vabbè che d'inverno si poteva fare poco anche nei campi, comunque ci aiutava più che altro lui d'inverno perché d'estate lui era sempre fuori con queste cose.